Come è un'azienda di calzatura civile? L'estrazione ci imponeva di fare delle calzature che avessero delle particolari caratteristiche legate al comfort, alla morbidezza e alla leggerezza. Siamo detentori del Bluesoft, brevetto depositante in tutto il mondo, che ci caratterizza, che è sommato alla leggerezza dei nostri prodotti, che usano materiali che derivano dallo sport, fa sì che questa sia un'azienda che riesce a matchare le caratteristiche tecnologiche della calzatura sportiva con il fashion. In questo ultimo periodo è nata appunto da questa ricerca la nostra ultima linea, second skin, che la parola stessa lo dice seconda pelle, che è proprio l'estremizzazione di questo concetto connubio tra sport e fashion, quindi con suole che derivano dallo sport, quindi estremamente leggere, flessibili e materiali decisamente morbidi con delle costruzioni all'interno che sono tutte depositate e brevettate da Stonefly. Noi lavoriamo nel mercato internazionale, i nostri mercati di riferimento sono, oltre all'Italia, sono il mercato dell'Europa, Sud Europa in particolare, e poi noi siamo presenti massicciamente anche in Estremo Oriente, dove abbiamo una grossa joint venture per la distribuzione in Cina, in Giappone e in tutta l'area del Far East. I monomarca sono, diciamo, la testa di ponte su questi nuovi mercati per poter introdurre il marchio, il flagship shop, su cui ci stiamo non solo in Italia ma anche in Sud Europa. In questi giorni abbiamo aperto tre monomarca in Turchia, ad Istanbul, oltre a quelli già esistenti in Estremo Oriente. Questo crediamo sia un modo nuovo e diverso di commercializzare il prodotto, creare un'aspettativa, creare il brand, il mage, per poi poter in qualche maniera introdursi sui mercati sui quali si vuole andare a occupare. Il nostro sito è internet, stonefly.it.